Anticipazioni puntata Il segreto di mercoledì 16 novembre 2016 I Castaneda conoscono Malisa, ma Candela intanto soffre nel constatare che Severo ha subito trovato una sostituzione per lei. Carmelo però ha capito che si tratta di un trucco di Severo per far ingelosire Candela. Emilia sta pensando di separarsi da Alfonso, nel frattempo Francisca rientra alla villa e riceve una misteriosa lettera dal tribunale. Sol sospetta ancora di Abdullia e ne parla con Lucas. Francisca apprende con estrema felicità che le verranno restituiti tutti i suoi beni, ma Raimondo non ne è felice ben sapendo che ora la Montenegro tornerà ad essere come prima. Berta appare molto premurosa verso Bosco. Rosario glielo fa notare e lei si scusa per il suo comportamento. Rosario glielo fa notare e lei si scusa per il suo comportamento.